Bentornati a Patchwork, io sono Valentina ed oggi proveremo insieme a costruire un porta spazzolini con le bottiglie di plastica. Prima di ogni cosa prendiamo una bottiglia grande di plastica e la tagliamo nelle due estremità. Tagliate le due estremità adesso passiamo ad incastrarle l'una nell'altra. Unite le estremità della nostra bottiglia adesso prendiamo le bottiglie più piccole e creiamo le fessure per inserire gli altri spazzolini. Adesso andiamo ad incollare sulla nostra bottiglia. Adesso creiamo il foro per inserire i nostri spazzolini e il dentifricio. Adesso andiamo ad inserire i nostri spazzolini con il dentifricio. Questo è il nostro porta spazzolini ultimato. È facile e veloce da fare. Provateci anche voi. Vi aspetto alla prossima puntata di Patchwork. Ciao!